Gianni Di Labio, intanto un pizzico di emozione oggi non è andata bene, Presidente, perché da oggi assume questo nuovo incarico. Certo, io invece guardo l'aspetto positivo. Oggi è stata una giornata meravigliosa perché lo stadio era pieno, quello che volevamo noi era riempire lo stadio, cercheremo di portare più gente sempre allo stadio e per quanto riguarda gli aspetti tecnici ci fidiamo pienamente di mister Ignoffo e andiamo avanti. Oggi è stato un incidente di percorso, sono convinto che la squadra c'è e nel leggero ritardo ritengo sull'aspetto fisico, ma noi ci crediamo tantissimo. La squadra c'è ma ci saranno altri acquisti? Ci saranno altri acquisti, è chiaro che la nostra attenzione sulla squadra e con il mister condivideremo un po' quelli che potrebbero essere alcune situazioni che si potrebbero creare, però crediamo in questa squadra, crediamo nel mister, la società è al loro fianco e quindi noi faremo la nostra parte.